Mamma, papà, non avete remora, tra poco passa un collaboratore dello studio legale presso il quale mi sono servito, dagli quanto ti chiedono perché devo intascare un assegno a mio favore di 11.000 euro. In manette truffatore seriale, l'uomo, un 47enne napoletano proveniente da una famiglia camorristica, è stato arrestato nella città partenopea dagli agenti della polizia di Avellino e trasferito presso il carcere di Poggio Reale. Diversi colpi messi a segno nel capoluogo Irpino, due quelli accertati, fingendosi figlio delle vittime, chiedeva di corrispondere una parcella ad un avvocato che di lì a poco si sarebbe presentato dal genitore, pagamento necessario a riscuotere una presunta aspettanza da parte del figlio. L'avvocato, che poi si recava dagli anziani, era ovviamente la stessa persona che poco prima aveva chiamato. L'uomo, con modi garbati, affabili e gentili, si faceva consegnare il denaro. Lui ha precedenti di stampo camorristico vecchi, lui è imparentato con una famiglia che negli anni 90, come ho detto precedentemente, ha fatto parte della criminalità organizzata, occupandosi sia del traffico di sigarette, di contrabbando, che del traffico di droga. Sì, ci potrebbero essere degli altri casi, questa persona è alto 1,75 m, ha capelli lunghi, neri, ha 47 anni, abbronzato, si veste bene, è esile come corporatura, ha dei modi affabili che inducono in errore.